Sgominato dai carabinieri un market della droga. Questa mattina sono state eseguite decine di misure cautelari a carico di indagati ritenuti responsabili di concorso in detenzione e spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata illustrata in una conferenza stampa. Vedete intorno a Fortino della Droga donne pusher e parole in codice per contattare gli spacciatori. Questo è il dettaglio che è emerso dall'indagine, un ruolo delle donne rilevante non solo nello spaccio al minuto ma anche nell'approvvigionamento e nella distribuzione dello stupefacente ai vari pusher che poi garantivano H24 un servizio a tutti gli assuntori che comunque in qualche modo sarebbero recati nell'area. I pusher si assicuravano una sorta di controllo per prevenire gli interventi delle forze dell'ordine grazie a un sistema di vedette che assicuravano un controllo del territorio dai balconi dei palazzi circostanti, le piazze di spaccio. Questa è un'indagine che nasce da un semplice controllo alla circolazione stradale nel corso del quale un assuntore viene fermato, trovato in possesso di sostanza stupefacente e successivamente dai vari controlli del territorio e delle sue frequentazioni si è giunti alla filiera degli spacciatori. Tra gli indagati numerosi avevano legami di palentela, abbiamo infatti due sorelle, due fratelli che operavano in alcune circostanze come gruppi differenti in altre invece collaboravano al fine di garantire un servizio agli assuntori. Le indagini sono comunque concentrate nel quartiere al fine di risalire alla filiera di distribuzione dello stupefacente. Nell'arco di pochi mesi di indagine è stato accertato che sono state eseguite oltre mille cessioni nelle tre differenti piazze di spaccio che venivano monitorate. Lo scopo del gruppo era quello di garantire H24 la distribuzione dello stupefacente che tendenzialmente avveniva negli orari diurni nelle piazze di spaccio, di notte invece nei pressi delle abitazioni o dei pusher o come in questo caso nei pressi dell'abitazione di un'anziana donna dove una spacciatrice faceva l'abbadante. Alcune attività commerciali nel corso delle indagini si è appurato che in maniera silente consentivano ai vari spacciatori di lasciare, seppur in maniera temporanea, delle dosi di stupefacente che poi veniva preso e consegnato ai tossicodipendenti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS